Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Secondo il primario di malattie infettive dell'ospedale regionale di Ancona, la principale causa dell'aumento dei contagi deriva dalla riapertura di asili e scuole. Quale fascia di età è più coinvolta ora nella trasmissione? Ma io credo sicuramente i giovani. È vero che non posso parlare per esperienza di reparto perché non ne ricoveriamo di giovani con il Covid, attualmente, perlomeno. Però sono sicuro che gran parte delle infezioni sono asintomatiche o paucisintomatiche. Poi, e questo dimostra anche il fatto che questo incremento dei contagi corrisponde alla riapertura delle scuole e degli asili, quindi sicuramente i ragazzi, i bambini trasmettono il virus e poi, quando il virus arriva al grande anziano o al soggetto fragile, per precauzione o per sintomi un po' più importanti, il soggetto viene ricoverato. Sulla quarta dose, il dottor Giacometti fa un'attenta analisi, consigliandola soprattutto ai soggetti fragili. Sono tantissimi, vi posso assicurare, i casi che non sono stati dimostrati con il test antigenico, con altri test, per vari motivi. soggetti anche sintomatici che hanno evitato di fare il test e soggetti asintomatici che non l'hanno fatto perché erano asintomatici. Allora, ovviamente, se un soggetto sa di aver avuto esposizione, quindi di aver contratto il virus, magari in una forma molto leggera, però dimostrato con il test, e ha fatto tre dosi, diciamo che il contatto con il virus è stata una quarta dose, una quarta dose è naturale, non artificiale. In quel caso potrebbe considerarsi protetto per quanto tempo? Quattro mesi, sei mesi, io direi non più di otto. Se il soggetto ha fatto solo tre dosi e è sicuro di non aver avuto esposizione al virus, io gli consiglio la quarta dose, soprattutto se è ultra sessantenne, se è un soggetto fragile, se è una donna in gravidanza.